Buongiorno a tutti e benvenuti. Bentornati a O Ragione Avvocato. La settimana scorsa abbiamo avuto con noi ospiti due colleghi, Silvio Pagani e Barbara Bergini, i quali hanno potuto solo accennare a un istituto interessante come quello della mediazione obbligatoria, prima delle cause civili in tribunale e comunque davanti ai giudici. Ed è un istituto sul quale vorremmo poi tornare, proprio perché i nostri 15-16 minuti a volte sono un po' insufficiente, ma danno almeno una traccia dell'argomento. Oggi invece siamo noi due e siamo con due argomenti particolari. Uno è quello che riguarda le cinture di sicurezza e l'altro argomento che è molto interessante e seguirò con estrema attenzione del collega Avvocato Costa Barbè è una ricostruzione storica limitata a Sanremo. Siamo proprio in periodo di festival di Sanremo e voi sapete che l'Avvocato Costa Barbè è in tema musicale, oltre che in tantissimi altri ambiti è preparatissimo e starò molto attento. C'è un problema che comunque riguarda un Sanremo giuridico e poi lo ascolteremo. Partiamo prima con le cinture di sicurezza. Allora, cinture di sicurezza, queste bistrattate cinture di sicurezza che penso nessuno ami tanto, tant'è che quando è stato introdotto l'obbligo, ricordo che si parlava, si fantasticava, ma penso sia notizia vera, che qualche napoletano aveva inventato quelle magliette con il disegno delle cinture per non prendere la sanzione. Però devo dire che anch'io non amo le cinture di sicurezza e alcune volte mi dimentico, ahimè, di metterla. Più o meno una dimenticanza volontaria quasi. Però c'è da dire una cosa, non è che il non mettere le cinture riusciamo, quando non mettiamo le cinture riusciamo a fregare il vigile che non ci dà la sanzione. Cioè ci sono delle conseguenze gravi in non mettere le cinture. Perché uno, la cintura di sicurezza può contribuire ovviamente a salvarci la vita, a salvare la vita a noi, a salvare la vita ai nostri passeggeri, a quelli che sono trasportati sulla nostra macchina. Oltretutto interviene anche in questo argomento la giurisprudenza. Ci sono moltissime cassazioni, tra cui due recentissime, una del 2017, la 11.429 del febbraio 2017 e una ancora più recente, la 2531 del 30 gennaio 2019, per cui molto molto recente, che hanno affrontato la responsabilità penale del conducente nel caso in cui non impone. Sì, non tanto non indossi lui, sì anche quello, ma nel caso in cui non imponga ai trasportati le cinture di sicurezza. Sì, è un argomento che torna. Non lo sappiamo, ma tanti non lo sanno. Il conducente è gravato di questa responsabilità, perché fa parte proprio delle regole di diligenza appunto di chi conduce un autoveicolo. Dice la Cassazione che spetta a chi conduce il veicolo a accertarsi che la marcia si svolga in condizioni di sicurezza. Addirittura la legge imporrebbe, secondo interpretazione che è consolidata, peraltro, della Cassazione imporrebbe al conducente di non far salire il trasportato, se non vuole indossare le cinture, o addirittura di non mettere in moto il veicolo. Questo perché, ad esempio, la sentenza affrontata dalla Cassazione, quella del 2017, si trattava di una signora che, ahimè, vittima di un incidente stradale, purtroppo ha perso la vita, questa non indossava la cintura di sicurezza. Il conducente, in questo caso, è stata sbalzata fuori, ovviamente, dall'abitacolo, e il conducente, ahimè, è stato condannato anche a rispondere penalmente, oltre ad avere delle sanzioni di carattere amministrativo. La normativa ha subito una modifica con la legge 41 del 2016, che ha introdotto due articoli, pur contestati, criticati, che sono il 589 bis, omicidio stradale, e il 590 bis, che sono lesioni, appunto, a seguito di un incidente stradale. Ecco, diciamo per cui che bisogna stare molto attenti, oltre a indossarle noi per questioni di sicurezza, ci sono anche responsabilità a profili civilistici. Alcune volte le assicurazioni, come dire, gravano di un concorso di colpa a chi non indossa la cintura, una volta che anche subisce l'incidente stradale, dal punto di vista civilistico. Abbiamo delle sanzioni amministrative, che vanno, in base all'articolo 172 del Codice della Strada, da 80 a 323 euro. Ricordiamoci una cosa che tante volte la gente non sa, noi sappiamo perché leggiamo le norme, però a volte dobbiamo leggere più volte per interpretarle. che l'obbligo di appunto posizionare la cintura incombe anche sui sedili posteriori, perché l'articolo 172 impone questo generico obbligo, non specifica, per cui si ritiene... Eh, no, no, spesso anch'io ignoravo prima così, poi, allora, ricordiamo poi, e un'ultima cosa, poi lascio all'argomento interessante che starò molto attento a seguirla, è che a chi viene, come dire, irrorata la sanzione amministrativa, al conducente, se è lui senza cintura, più 5 punti di penalità, chiamiamola per la sua, sulla patente. Poi di decurtazione, che non mi veniva il termine detto penalità, come se fosse il gioco del caccio. Sì, ma è una penalità. È una penalità. Se invece si tratta di un trasportato, viene irrorata la sanzione al trasportato stesso, purché non sia minore, perché se il trasportato è un minore, non accompagnato da un genitore, i punti, cioè i punti, la sanzione amministrativa dagli 80 ai 323 euro, incombono al conducente stesso, quando trasporto un minore. Cioè, per cui stiamo attenti, ragioni di sicurezza, ragioni di responsabilità addirittura penale, oltre che sanzioni amministrative, e anche da un punto di vista civilistico, perché limita l'eventuale risarcimento del danno, il fatto di non mettere la cintura. Lascio la parola a lei, adesso il tempo è volato. Il tempo è un po' tiranno, ma il vento di Sanremo è appena trascorso, diciamo, e io avevo fatto una ricerca in merito, perché ovviamente il Sanremo che vedevo io, soprattutto, era quello più noto degli anni 60 e primi 70, cioè il periodo d'oro, in cui Sanremo aveva veramente catalizzato l'attenzione degli spettatori delle tv dell'epoca, tv ancora in bianco e nero, peraltro, dove la Rai non trasmetteva neanche poi tutte le serate, a volte erano solo in radio, o parzialmente in Rai, c'era tutto un meccanismo. Poi la serata finale... Dove gareggiava la canzone, che era cantata da due, spesso e volentieri. Sì, dovevano essere due cantanti, che la presentavano in due versioni diverse, eccetera. Mi fiondo, perché l'argomento giuridico è un po' quello, sul discorso del regolamento. Il regolamento del Sanremo di allora, presumo anche quello di oggi, ma sicuramente allora era così, è che i cantanti in gara, beh, dovessero presentare canzoni inedite, e già qui a volte succedeva qualche polemica, magari qualche canzone... Qualche nota che si ripetiva su una rispetto a una canzone. Sì, era già stata magari mandata in onda in qualche altra commissione. E poi cantare con l'orchestra e cantare dal vivo. Questo era importante perché il playback allora era un po' limitato a quelle trasmissioni televisive minori, ma invece la gara, che era partita tra l'altro come una gara radiofonica nei primi anni 50, veniva trasmesse esclusivamente per radio, l'epoca di Nilla Pizzi, di Grazia dei Fiore, eccetera. Il primo grosso scandalo, in senso legale, di Sanremo fu nel 1964, io avevo dieci anni, quando la vincitrice del festival di Sanremo fu una giovanissima gigliola cinquetti, con non ho l'età, ma il vincitore morale del festival, e anche materiale, fu un giovanissimo... dei dischi, allora i dischi erano molto importanti, 45 giri e gli LP, un giovanissimo diciottenne, Bobby Solo, Roberto Satti, che aveva avuto la fortuna di essere, come dire, potenziato, preparato dalla casa discografica Ricordi, e soprattutto portare in gara una canzone con un testo di un giovane ventottenne mogol, che aveva già comunque un nome nel mondo della musica leggera. Che era una lacrima? Una lacrima sul viso, certo. Una lacrima sul viso, tra l'altro con un giro di Do abbastanza scontato, con un testo che oggi farebbe un pochino sorridere, no? Dopo tanti e tanti mesi, ora so, oggi le cose si misurano a ore, se non a giorni, insomma. Cosa sono per te? Da uno sguardo, da un sorriso, eccetera. Ma il discorso è che Bobby Solo, in prima serata, cantò, ma cantò in playback, con la scusa, chi lo sa, di una laringite che lo aveva colpito. E quindi cantò usando, utilizzando la base e proprio anche la sua voce, ma incisa su disco. Quindi i professori d'orchestra dovevano fare finta di suonare. Non è una cosa facile. Ah, anche la musica è giusta, sì. Se voi sentite l'unico video che c'è su YouTube e quello della serata finale, in cui si sente proprio che il sonoro è quello del disco e non quello dell'orchestra. Ma perché arrivò in finale pur squalificato? Cioè, è incredibile questo fatto. Il regolamento vietava di esibirsi in playback, però in prima serata gli fu concesso. Passò con le votazioni, arrivò in finale e in finale, pur cantando come ospite, quindi fuori concorso, fece nuovamente ascoltare la sua canzone. E nessuno si lamentò in modo speciale o fecero ricorsi d'urgenza o al pretore o che... Evidentemente la storia si ripete. Le case discografiche avevano determinati... Certo, potere. ...pesi e poteri. E quindi Bobby Solo stravinse sostanzialmente con questa canzone che ancora oggi viene comunque riproposta e cantata da tante persone e anche in mille salse diverse su YouTube. Ne trovate tantissime versioni, tantissime cover, ma proprio violando uno dei principi fondamentali del regolamento del Feste di Sanremo. E lo violò due volte senza che nessuno si lamentasse. Gli articoli di allora che io sono andato a compulsare sono molto attenti a non... A dirlo, ma non è necessario. Però magari quello ha contribuito anche a rendere ancora più famosa la... Certo, ma perché comunque con la base e gli effetti del disco la voce di Bobby Solo comunque bella ne guadagnare. Certamente io penso che l'audience, e poi chiudo qui, che chi era tra il pubblico, magari non tutte le signore o non tutte le persone, ma insomma molti, avranno capito che la situazione era quella. Però i giornali dell'epoca ne parlano, ma con un certo... Velatamente. Velatamente. E questa situazione della doppia esposizione di Bobby Solo, televisiva, eccetera, la trovate esclusivamente sui giornali La Stampa e Il Corriere della Sera dell'epoca. Su internet la notizia c'è, ma non è così precisa. Su internet non c'è tutto. Quindi la ricerca a volte deve essere ampia. Interessante. È riuscito a trovare un profilo giuridico anche sul Festival di Sanremo. Complimenti. Sarebbero mille altri. Complimenti. Ma questo credo che sia stato il primo. Certo. Forse ho sforato un pochino, comunque vi ringrazio per l'ascolto e se avete bisogno di qualche nozione in più sul regolamento del Festival di Sanremo, vedremo di approfittare per impiegare ulteriori ricerche in questo settore. Chissà quante cose possono andare. Salteranno fuori. Buona serata a tutti e grazie per l'ascolto. Buona serata a tutti. 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 Grazie a tutti.